Mister, davanti la tribuna dello stadio Luigi Razza, in vista dell'ultima partita, il più è stato fatto, però c'è un'altra gara, c'è l'ultima gara di campionato da disputare. Dobbiamo onorare il campionato, rispettare il calcio, fare una partita al massimo delle nostre possibilità. È normale che ci sarà qualche giocatore o l'inizio durante che ha giocato meno, ma sicuramente avranno voglia di mettersi in mostra, dunque mi aspetto una buona gara. Ecco, lo diceva proprio lei, si darà spazio anche a chi ha giocato meno, anche se poi in realtà diciamo che in questo campionato per necessità, insomma, un po' tutti sono entrati in campo. Sì, siamo stati spesso contati, dunque la rosa è stata proprio, diciamo, spremuta fino all'ultimo. Però se non è normale che un po' di soddisfazione anche a chi ha giocato meno, o almeno in una parte di partita, penso di dargliela. Ecco, mister, si è messi proprio qui in campo a sottolineare che la salvezza, insomma, è arrivata. Manca però il pubblico, non manca soltanto la Bibonese, ma anche il calcio in generale. Beh, se tutti dai una cosa retorica a dirla, ma è la verità, giocare al calcio senza pubblico ricorda quelle partite delle squadre quando viene squalificato il campo, che dicevamo che è impossibile giocare senza pubblico, addirittura più di un anno che ci giochiamo tutti. È brutto, perché il calcio è proprio l'emozione, è proprio l'applauso, è proprio il fischio, è proprio la cantera che è bello. Invece purtroppo non è possibile, è un calcio più asfittico, più a se stesso, ma è normale che la gente anche a casa forse soffra anche di più. Eccomi, si arriva alla Turris, che squadra vedremo qui a Luigi Razza? La solita Turris, che gioca un po' alla Garibaldina, Caneo è un amico, è anche un bravissimo allenatore, scalano sempre in avanti, molto pericolosi, concedono qualcosa, ma la partita di solito la fanno loro. Ecco, dopo questa gara appunto si chiuderà il campionato e ovviamente si penserà già alla prossima stagione. I colleghi chiedono cosa si immagina per la prossima stagione Giorgio Rosetti. Immagino che lunedì vado a casa e vado a rincontrare la mia famiglia e mia nipotina, che non ho visto per tre mesi, e dunque questo è quello che interessa a me. Il campo e quello che succederà poi sono cose della società, la società farà le proprie valutazioni, io farò le mie valutazioni, questo è un mondo dove siamo liberi tutti di fare delle scelte, io addirittura, come sono abituato a fare, non mi leggo a un risultato, credo che quello che per me è importante è i rapporti che si installano con le persone, se ti trovi bene con delle persone è una cosa, se ti trovi meno bene è un'altra. Dunque io mi sono trovato benissimo con le persone qui a Vibo, sono stati tre mesi difficilissimi, intensi, ma vissuti come in una famiglia, per me è stata un'esperienza fantastica, conoscevo benissimo questa zona, per essere stato, come sapete, a correnza per tre anni, dunque le persone ti danno il cuore, e questo per persone come me è molto importante. Poi il calcio e quello che succede, il resto è un'altra cosa importante, che ci sia stata questa conoscenza reciproca e questa stima reciproca.